Sono Marco Lacamera, insieme a Maurilio Fava siamo i fondatori di ATS Enterprise. La nostra idea è quella di costruire un microgeneratore di corrente elettrica da integrare a sistemi full electrics e qui abbiamo un mock-up scala 1 a 1 del progetto. L'idea è quella di generare potenza elettrica localizzata per sistemi full electrics che attualmente utilizzano esclusivamente batterie, come ad esempio droni, robot o esoscheletri per la movimentazione dei disabili. Per questi sistemi le batterie sono in alcuni casi limitanti per l'autonomia, in altri casi ne impediscono la commercializzazione come nel caso degli esoscheletri, sia perché riescono immagazzinare poca energia, sia per i tempi di ricarica. Basta pensare ad Asimo, il robot della Honda, che per un'ora di funzionamento necessita di 3 ore di ricarica. Con l'ultramicrogeneratore noi ci aspettiamo di alzerare completamente i tempi di ricarica, visto che il sistema utilizza conversioni di energia chimica in energia elettrica grazie a un espansore a gas, quindi portare l'autonomia del sistema triplicata, se non potenzialmente stesa all'infinito, grazie al generatore che consuma 6 grammi di combustibile per un'ora di funzionamento e genera 1 kilowatt di corrente. consideriamo che in un sistema normale possono essere inseriti uno o più di generatori per poi immagazzinare l'energia o in sistemi di accumulazione oppure usarli direttamente per il funzionamento del sistema. Il combustibile che ci proponiamo di utilizzare sono combustibili di uso comune, quindi metano o propano o, nella peggiore delle ipotesi, idrogeno. Nulla, siamo in una fase di progetto, abbiamo costruito la camera di combustione che è già stata testata e stiamo cercando fondi per chiudere il progetto esecutivo e la realizzazione dell'ultramicroturbina che è la parte più critica per quanto riguarda il nostro progetto.